Salerno nel panorama della raccolta differenziata è una delle città con i numeri migliori che accoglie da anni la cartiera più importante del sud Italia con la presenza di diversi impianti apprezzabili che garantiscono un'ottimale trasformazione anche della carta e del cartone. Così questa mattina Roberto Di Molfetta, vice direttore Comieco in occasione dell'iniziativa Carta al Tesoro promossa nella città di Salerno da Comieco in collaborazione con Salerno Pulita e con il patrocinio del comune di Salerno. La pioggia non ha fermato questa mattina la sfida a squadre che si è spostata dal lungomare di Santa Teresa al porticato di Palazzo Guerra. Un gioco a squadre per informare sulle pratiche per una carroetta raccolta differenziata di carte e cartone, un percorso a tappe tra quiz e giochi legati al mondo della carta e a su riciclo che ha coinvolto tanti giovani in cinque tappe che in funzione ai tempi delle risposte hanno gareggiato per premi di un valore pari a 3.000 euro. Abbiamo avuto una buona partecipazione, siamo contenti che il Comieco abbia investito su Salerno, è un'iniziativa che capita nella settimana della Paper Week, se ne fa solo una in Italia e per quest'anno è stato scelto Salerno per gli ottimi risultati che stiamo raggiungendo sulla raccolta differenziata e in particolare su carta e cartone. Un'iniziativa che ha raccolto sin da subito le adessioni di tanti giovani, un'ulteriore occasione di sensibilizzazione ad una corretta raccolta differenziata. Sì, sicuramente, insomma noi stiamo puntando molto sulla sensibilizzazione, la città di Salerno, i cittadini Salerno e le imprese di Salerno stanno reagendo molto bene, insomma ci stanno aiutando molto, lo stesso vale per i cestini delle direzioni canine, stiamo finalmente accelerando e dove abbiamo messo i cestini per le direzioni canine riscontriamo un buon risultato, non troviamo più direzioni sui marciapiedi. La carta al tesoro prevede delle tappe con dei quiz e quindi oggi vince chi è più veloce ma anche chi è più veloce di testa, nel senso che riesce a rispondere a domande che riguarderanno la raccolta differenziata di carta e cartone ma anche la città di Salerno. Salerno ha un ruolo importante nel panorama della raccolta differenziata italiana, è una delle città con i numeri migliori ma da molti anni, è una città dove risiede la cartiera più importante del sud Italia e dove c'è un tessuto di impianti importanti tant'è che questa iniziativa che si inserisce nella settimana del riciclo di carta e cartone vede otto impianti aperti nel fine settimana che sono impianti sia di trasformazione della carta sia di primo trattamento ma anche di produzione delle scatole che sono delle eccellenze italiane che portano tra le altre cose i prodotti campani in giro per il mondo con imballaggi prodotti in parte con la raccolta differenziata e da imprese nel territorio campano. Perfetto.